Attenzione, fallo di mano, calcio di rigore. Un minuto, venti secondi, la mano di Stendardo, Gervasoni indica il dischetto. Parte Totti, che spiazza Sportiello e porta la Roma in vantaggio. Rientra oggi, subito con il gol Totti, sesto della stagione. Movimento in verticale di Emanuelson che riceve, occhio a Demis anche. Emanuelson finisce giù, protestano i giocatori dell'Atalanta, calcio di rigore. Gervasoni si è consultato con assistente addizionale, indicato al dischetto. Va Denis, perfetto anche questo rigore, 1-1, su rigore Totti e su rigore il pareggio di Denis. Astori partecipa anche lui all'azione d'attacco, poi Florenzi, rimpallo con Carmona, poi sbaglia tutto Carmona. Offre il pallone a Florenzi, Sportiello chiude in calcio d'angolo. Baselli passa, occhio a Baselli al limite, apre tutto per Gomez in area. Gomez lo stop a Stori in calcio d'angolo, che rischio per la Roma. E Stigarribia, dentro per Denis, occhio perché arriva Emanuelson dall'altra parte con spazio. E Stigarribia, calcio in porte, sicuro De Santis. Salta un avversario, Nainggolan, Sportiello la tiene in due tempi. C'è Nainggolan che ha un'altra chance per calciare, apre per Florenzi con il destro a Sportiello. Gran botta di Florenzi. Ibarbo. Buona giocata, poi la palla dietro per Iaic nel traffico. Cerca un barco, ancora Iaic. Si gira, Iaic, la parata, la porta è vuota. Si salta. Finisce uno a uno, ancora un pareggio. Il tredicesimo in stagione per la Roma.